Si è svolto a Palazzo Cesaroni a Perugia l'ultimo dei quattro incontri sui 50 anni dello statuto regionale, resilienza o debolezza, analisi e prospettiva di riforma promossi dalla Commissione speciale per le riforme statutarie presieduta da Daniele Carissimi. A margine dei lavori il Presidente della Commissione ha evidenziato che questo ciclo di audizioni sia concluso affrontando tematiche attuali e molto interessanti proposte da alcuni degli studi più preparati sulla materia. Sono stati suggeriti spunti di modifica e messi in evidenza i punti di attualità dello statuto regionale Umbro. Si è trattato solo della prima fase della consultazione. Ora ascolteremo le associazioni del terzo settore, tutti i soggetti che possono dare un contributo alla riforma dello statuto. Al termine della fase partecipativa saranno presentate le proposte di riforma della carta regionale.